Nonostante abbia sostanzialmente ammazzato Stadia, che era un progetto molto interessante, Google non ha affatto rinunciato a dire la sua nel mercato dei videogames, che è molto florido dal punto di vista economico. Infatti si pone l'obiettivo di farti giocare su PC i giochi che normalmente usi sul tuo smartphone Android. Andiamo a vedere come. Prima di parlarti di Google Play Games Beta, quindi attenzione, è ancora una beta, non è ancora una versione definitiva, è doveroso fare un riferimento alla buonanima di Stadia, un progetto molto interessante di cloud gaming che Google ha lanciato in pompa magna, salvo ammazzarlo tre anni dopo. Un vero peccato perché, come ti dicevo, era un progetto molto interessante che avrebbe potuto essere davvero concorrenziale con altri grandi player del mercato. Google non ci ha creduto abbastanza, come gli capita spesso purtroppo, perché molti progetti di Google negli anni sono stati lanciati e poi abbandonati, anche quando le potenzialità c'erano, e pazienza, purtroppo non possiamo utilizzare Stadia. In compenso, da un anno a questa parte, possiamo usare anche in Italia Google Play Games Beta. Lanciato in una serie di paesi, particolarmente in Oriente, nel 2022, Google Play Games Beta è arrivato in Italia appunto nel maggio del 2023, quindi all'incirca un anno fa. Probabilmente non ne avrai mai sentito parlare, salvo che tu non sia un giocatore assiduo, ma questa piattaforma si rivolge principalmente ai giocatori occasionali, quelli che ogni tanto prendono lo smartphone per farsi una partitina e in qualche modo far passare qualche minuto, che diventa alle volte anche qualche ora, del proprio tempo. In questo video vedremo più nel dettaglio che cos'è e come funziona Google Play Games Beta, se ha dei costi, pro e contro. Prima di farlo però ti chiedo la consueta cortesia di lasciare un like a questo video, di condividerlo con quante più persone possibili per far sapere anche a loro l'esistenza di questa piattaforma, di iscriverti al canale, attivando anche la campanellina delle notifiche, per sapere sempre in tempo reale ogni qualvolta pubblicheremo dei nuovi contenuti, e soprattutto commentare qui sotto, nello spazio dei commenti appunto, questo video. Sono tutte attività che a te non costano assolutamente nulla, tornando al discorso di prima, sono completamente gratuite, ma per il canale sono davvero molto importanti. Noi stiamo crescendo molto, quindi se vuoi darci una mano, te ne saremo davvero estremamente grati. Ma torniamo a parlare di Google Play Games Beta, che come ti dicevo è stato lanciato nel gennaio del 22, quindi un paio d'anni fa, poco più di due anni fa, in alcuni paesi orientali, nello specifico Corea del Sud, Hong Kong e Taiwan, solo per i beta tester di Google. Successivamente è stato ampliato questo progetto, è stato portato in molti più paesi, fra cui l'Italia, dove è approdato nel maggio del 2023. Da allora il numero e la quantità di giochi disponibili su questa piattaforma per PC si è enormemente ampliata. Si parla ormai di oltre 3.000 titoli, ma lo vedremo più nel dettaglio fra poco, quando ti presenterò il programma più approfonditamente. Naturalmente la sua peculiarità principale è di portare i giochi che normalmente giochiamo sul display del nostro smartphone, che per quanto grande potrà essere di 6-7 pollici, difficilmente si va oltre questa dimensione già ragguardevole, sugli schermi dei PC, che possono essere ovviamente dei notebook o dei PC fissi, quindi diciamo dai monitor da 13-14 pollici di un notebook fino ai 28-30 o quanto vuoi tu di un PC con monitor fisso. Volevo anche sottolineare un altro aspetto molto importante, che da un mese e mezzo circa, Google ha annunciato che sul Google Play Games Beta potrai trovare non soltanto i giochi per smartphone adattati per PC, poi vedremo che ce ne sono alcuni che sono ottimizzati, altri compatibili e ti spiegherò la differenza. Ma che ha ampliato la piattaforma anche ai giochi nativi per PC. Questo non vuol dire che ci andrai a trovare dei giochi AAA e sostanzialmente andrà a fare concorrenza ai giganti del cloud gaming già esistenti, perché a quel punto tanto valeva tenere in vita Stadia, cosa che io personalmente avrei fatto, ma io non sono un dirigente di Google ovviamente. Quanto piuttosto consentire agli sviluppatori di giochi per PC di realizzare appunto dei videogames specificamente per questa piattaforma. Quindi un aspetto interessante e da non trascurare, soprattutto perché, te lo ripeto, stiamo parlando di una piattaforma che almeno per il momento è completamente gratuita. Ma bando alle ciance andiamo a vedere più nel dettaglio, spostandoci al personal computer, come funziona Google Play Games Beta. Come preannunciato eccoci al PC per vedere le peculiarità di Google Play giochi Beta. In primis la cosa che balza immediatamente all'occhio andando sul sito ufficiale, che naturalmente ti lascio qua sotto in descrizione, è che per giocare con questo sistema, per utilizzare questo sistema, dobbiamo scaricare uno specifico programma sul nostro computer, lo faremo fra poco e ti farò vedere le caratteristiche. Però prima volevo proporti una rapida analisi del sito. Ci spiega quali sono le caratteristiche di questo sistema, ovvero poter giocare su uno schermo più grande e con maggiori controlli, sincronizzare tra dispositivi e l'esperienza Google ufficiale, che può essere un pro e un contro, visti i precedenti con Stadia. Andiamo più nel dettaglio. Si può giocare ai giochi mobile per Android su PC, e qui ci dà modo di esplorare i giochi, lo faremo fra poco. Qui sotto c'è invece una slider, una gallery dei vari giochi disponibili, insomma i football, Soul Seeker, Eversoul, Final Fantasy e molti molti altri, ad esempio State of Survival, Zombie War, piuttosto che il re del golf, insomma ci sono una varietà di generi per qualunque gusto. Sali di livello con i controlli migliorati, perché chiaramente rispetto ai controlli che ci può garantire uno smartphone, poter utilizzare il monitor di un personal computer, che è molto più grosso, ci aiuta, così come ci aiutano anche i controlli gestibili con il mouse o con i tasti della nostra tastiera. Si può riprendere il proprio gioco da dove lo si era interrotto, ad esempio lo si è iniziato a giocare su smartphone, poi ci si è spostati su tablet e infine su personal computer, non dovremmo ripartire da capo nel livello, ma possiamo riprendere esattamente da dove avevamo lasciato. Chiaramente per poterlo utilizzare, l'ho dato per scontato, ma ora l'ho preciso a scanso di equivoci, bisogna essere loggati col proprio account Google, ma se non ce l'hai lo puoi creare gratuitamente, non è un problema. Giocare sempre al meglio con Google, appunto, perché i giochi sono in buona parte ottimizzati per PC, in collaborazione con gli stessi studi che li hanno sviluppati, in modo da garantire sempre la migliore esperienza di gioco possibile. E naturalmente, così come anche per il gioco da smartphone, si possono accumulare Google Play Points giocando. I requisiti minimi, come vedi, non sono particolarmente severi, richiede un sistema operativo almeno Windows 10, uno spazio di archiviazione con 10 GB disponibili, la scheda grafica, una GPU Intel Graphics 630 equivalente, quindi va benissimo una scheda integrata, processore 4 core fisici tra CPU, memoria di almeno 8 GB, account amministratore di Windows, e la virtualizzazione hardware che deve essere attivata. Se alcuni aspetti che ti ho appena elencato non ti fossero chiari, basta cliccare sull'iconcina centro assistenza per chiedere, appunto, assistenza. E qui sotto trovi in ultimo le domande frequenti, da che cos'è Google Play giochi, quali sono i requisiti minimi, chi può partecipare alla beta, eccetera, eccetera, ma lascio che te li vada a leggere in autonomia, andando sul sito che è linkato qui sotto nella descrizione. Andiamo a vedere rapidamente i giochi, e poi ci spostiamo sull'app vera e propria. Allora, come vedi, ce n'è veramente una quantità industriale, non te li elenco tutti perché faremmo notte, però abbiamo dei grandi classici mobile come Clash Royale o Clash of Clans, altri giochi come Farm Heroes Saga, Avatar World, Angry Birds, Fallout nella versione Shelter, Fishing Clash come gioco sportivo, Asphalt 9 che è un grande classico anche per mobile, e tanti, 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 potrei dire tanti all'infinito, però sono veramente tanti altri, come vedi io sto scorrendo un po' rapidamente l'elenco, ce n'è davvero per tutti i gusti di tutte le tipologie di videogames, dagli RPG alle avventure, alle giochi platform, a quelli di memoria, a qualsiasi altra cosa ti possa venire in mente, in sostanza la troverai, e ci potrai giocare naturalmente sullo schermo del tuo PC. Per farlo però bisogna necessariamente utilizzare la specifica app, il programma che Google ha predisposto, in tal senso ti basta scaricarlo, puoi scaricare qui la beta ovviamente gratuita, e andartela ad aprire come sto per fare io. Una volta aperto il programma, e naturalmente dopo esserti loggato con il tuo account Google, ti troverai in questa home page dove troverai alcuni giochi consigliati, in questo caso a me consiglia Jones Journey Misteri Celati, probabilmente se l'ho presi fra 5 minuti me ne consiglierebbe un altro, mi mostra la raccolta di giochi, come vedi non ne ho moltissimi, perché non sono un grande videogiocatore, sono decisamente un casual gamer, e qui sotto gli ultimi giochi aggiunti, il gioco dell'anno per Google Play, PC appunto, altri giochi consigliati, un invito a continuare a iniziare a giocare, ad esempio delle avventure con varie proposte, Apocalisse Zombie, si possono naturalmente entrare in contatto con gli altri giocatori mediante il forum, e poi appunto visualizzare tutti i giochi di cui possiamo disporre, suddivisi per generi, quindi vedi c'è arcade, avventure, azioni, carte, casino, casual, corse, cultura generale, da tavola, educativi, giochi basati sulle parole, giochi di ruolo, musica, rompicapi, simulazione, sport e strategia, c'è una enorme varietà, andiamo per curiosità a vedere i giochi di azione, si va ad esempio, vedi da Free Fire, a Dragon Ball Legend, piuttosto che Left to Survive, quindi zombie che imperano anche qui, Mindustry, Hunter Royale, e tanti tanti altri, Miraculous per i più piccoli, e soprattutto le più piccole, forse rivolto più alle bambine, quello specifico cartone animato e videogioco, Shadow Slayer, Demon Hunter, e tanti tanti altri, insomma possiamo scegliere un'infinità di titoli, questo per quanto concerne i giochi di azione, ma possiamo andare a vedere le avventure, piuttosto che qualunque altro genere, come vedi anche qui, mi troverò una serie di proposte, questa di Griffin ad esempio, può essere simpatica, Family Guy, Missione, non ha una valutazione elevatissima, andiamo magari su qualche gioco che ha una valutazione più alta, ecco, una carenza che ho notato, che non puoi fare una ricerca con dei filtri, quindi ad esempio cercare per valutazione, piuttosto che per altri elementi di ricerca, puoi semplicemente scorrerli così come ti vengono proposti, salvo tu non sappia esattamente che gioco vuoi cercare, in questo caso basta andare su Cerca e lo troverai molto facilmente. Comunque andiamo su un classico come può essere Clash of Clans, aprendo la sua apposita pagina, mi darà una serie di informazioni al riguardo, a parte l'anteprima, ma la valutazione, quanti sono i download, per quale utenza è consigliato, la possibilità di installarlo, e qui sotto degli screenshot, e appunto valutazioni, informazioni sul gioco, valutazioni e sicurezza dei dati, insomma tutto quello che troveresti normalmente sullo smartphone, quando vai a aprire una specifica app, o un gioco per Android, lo puoi ritrovare anche qui, ti mostra naturalmente anche i giochi simili, esattamente come farebbe su mobile, di fatto andando ad esplorare i giochi, abbiamo già scoperto la terza voce di questo menu, che appunto esplora, quella centrale è la raccolta dei giochi, che io ho installato sul mio smartphone, in questo caso li vedo anche qui, dalla mia raccolta, però se ne avessi di più, o volessi vederli meglio, vado su raccolta, e mi dà appunto i vari giochi che ho, su smartphone, come vedi qui c'è il pulsantino di download, perché io non li ho ancora installati su pc, questi sono sul mio smartphone, quindi di per sé decisamente, un'interfaccia molto molto semplice, elementare, facile da utilizzare per chiunque, non abbiamo molti altri pulsanti, abbiamo qui sotto, vabbè quello del mio profilo, qui la possibilità di inviare il feedback, e qui i download eventuali, che in questo momento è vuota, perché non sto downloadando nulla, diciamo che vogliamo sceglierci un gioco, per vedere anche questo, prendiamo proprio appunto Clash of Clains, lo andiamo ad installare, e ora nella voce download, che prima era vuota, troverò appunto Clash of Clains, in fase di download, io ho una fibra, quindi il download dovrebbe essere abbastanza rapido, in realtà non è rapidissimo, adesso non so esattamente quanto sia pesante il gioco, comunque sta procedendo, siamo al 39%, l'evento fra poco dovrebbe avere completato, e potrò giocarlo appunto sul mio personal computer, ok ci siamo, l'ha scaricato completamente, quindi in download non c'è più nulla, naturalmente, qui mi dà la possibilità di disinstallarlo, se lo volessi togliere, oppure semplicemente andando su gioca, me lo apre, e come vedi lo carica in un'ulteriore finestra, una finestra che io naturalmente posso anche allargare a tutto schermo, adattare alle mie esigenze, e ridurla o sistemarla in qualunque modo, ok abbiamo questo problemino con gli orchi, anzi i goblin, abbiamo questo problemino con i goblin, quindi dobbiamo appunto fare crescere, sviluppare il nostro villaggio, qui ho il negozio, posso acquistare un cannone, perché alcune riserve aurifere ce l'ho, così come ho anche dei diamanti, e degli altri beni di prima necessità, comunque ok, posizione il cannone nel villaggio, dobbiamo proteggere il municipio, in questa fase siamo sostanzialmente in un tutorial, mi sta guidando passo passo per imparare a conoscere il gioco, ora naturalmente non farò una recensione di Clash of Clans, perché non è questa la finalità di questo video, era solo per mostrarti la fluidità con cui si può giocare, in uno spazio decisamente più ampio rispetto a quello di uno smartphone, Per questo video è tutto, io spero ti abbia interessato, e in tal caso ti invito a lasciarci un like, a iscriverti al canale attivando anche la campanellina delle notifiche, nel caso il video ti sia piaciuto, e io naturalmente spero di sì, a condividerlo con quante più persone possibili, e soprattutto a lasciare un commento qui sotto, per farmi sapere che cosa ne pensi di questo video, di Google Play Games Beta, e in generale del mondo del cloud gaming.